Yo ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, un nuovo showcase, me l'avete chiesto ed eccolo qua, Double Jiren, quindi vediamo il doppio grigio all'opera, sia quello Zenkai che nel frattempo è arrivato a Zenkai 7, quindi lo vedremo a piena potenza, e sia quello Legends Limited, compreso il suo platino. Come support l'immancabile Vados raga, perché è un personaggio squisito. Prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, per chi ancora non fosse iscritto potete rimediare all'istante premendo sul tasto qua sotto, è gratis, mi supportate e attivando la campanella non vi perderete più nessunissimo video. Detto ciò, vamonos! Eccoci qua, Team Double Jiren, personaggi giocanti, chiaramente i primi tre che vedete, Vados raga, io spero che le facciano uno Zenkai da un giorno all'altro, perché è esattamente il support che manca a questo team, Universe Rap, Universe Survival Saga, Rival Universe, Godeki Girls, potrebbe coprire letteralmente qualsiasi team. Dopodiché, discorso per Jiren Legend Limited, lui teoricamente è un ranged type, ma secondo me l'han deciso lanciando una moneta. Dalle statistiche ha uno Strike Attack superiore al Blast Attack, dalle varie Unicability non si buffera mai unicamente il Blast Attack, e l'unica, a conti fatti, cosa che lo collega a essere un ranged type, è la sua carta verde che dà un più 30% di Blast Amage inflitto per 20 timer count. Poi, per il resto, ripeto, non c'è assolutamente nulla che vada a buffare nello specifico il Blast Attack, quindi l'ho buildato sulle Strike. Raga, andiamo in PvP, vediamo come rendono questi due Jiren insieme a Vados, via! Cominciamo, Team Godeki più Goku Super Saiyan 3, del movie Legends Limited. Vamonos, buttiamo un anti-coverbrew. Ok. Andiamo anche ad SM, perché no? Vediamo un po' i danni di questo Jiren. Gustosi, raga. Ah, mi piglia lui. Specchiato, un altro saltino, raga, l'avrei rimesso in combo. Va bene. Grig, Grigian Purple, tanka. Chill, chill, chill. Addirittura. Ma io la farei tanker a lui, raga. È una roccia. Alla grande. Alla grande, Grigian. Tu vai bene. Tu pure. Uno, due. Vai, Grigian. Distruggilo, Grigian. Devastante, raga. Basta scelta di carte. Andiamo di strike. Uff, uff, non ce l'ha azzeccata e si mette veramente male per lui. Meno due, resta solo Goku. Niente più anti-cover per lui. Uh, Legendary Finish, così di partenza col Grigian. Ebbene sì, faccela vedere sta Legendary Finish. È vero che durava una cifra, raga. Continuava a picchiarlo e poi sembrava che finisse di picchiarlo e lo picchiava ancora. E poi sembrava finito. No, lo picchia ancora. Grande, Jiren. Un sacco rancoroso. Ticchialo ancora. Basta, basta, Jiren. Tranquillizzati. Facci un sorriso. GG prossimo. Son Femme. Roba un po' più meta. Bene così. Vai, Grigian. Anti-cover bro. Ok, consumami il mio ki. Quanto avrei voluto un suo attacco, raga. Tantissimo proprio. Facciamole fuori due carte. Iniziamo a far girare questi buff. Ok. Ok. SM. Cattiva. Nice. Green Gen. Ben, vai tu. Vai tu col tuo anti-cover, bro. Ok. Facciamogli fuori la prima... No, entra Pan. Rischioso questo. Vediamo quanti danni facciamo a Pan. salva per miracolo. Non più. Va bene. Niente più carte per me. Belfini. Meno due. Direi che teniamo Vados, raga. Senza paura. Sì. Sì. Assolutamente sì. Cioè, pompiamoci Giren Purple e teniamolo con una vita e mezza, praticamente. Va bene, va bene. No problem, Bombist. Torna in vita. Torna in vita. Torna in vita, Revive Cube. Ok. Tancheggiamo con lui, che è Purple, raga. Va bene. Forziamo lo Switch. Ok, Beast. Lasciami le mie carte, grazie. Mi è finito l'anti-cover, di già. Bello Useless. Mi sono invece ancora bello attivo. Ma tanchiamo tutto di Giren. Ok. Va bene. Questa è proprio un bel drop, bro. Ma proprio bello, bello, bello. Vai, Gricen. Vai, Gricen Purple. Bello rancoroso, mi raccomando. Posso? Posso prenderti e scioglerti? Grazie. GG, prossimo. Andiamo avanti, Team Saiyan Konit Leader. Come un'oss. Ok. Facciamo così e facciamo così. Very nice. Vai, Vados. Fai girare qualche buff. Posso pescare uno? No. Ok, hai la meglio tu. Anti-cover. C'è ancora. E andiamo così. Che so danni su chiunque. Hit un milione e tre. Non penso che lo reggerai. Mi sa di no. Meno uno. Meno due. E meno tre. GG, prossimo. Andiamo avanti. Team Legends Festival, praticamente. Vai, Grigen. Non temere nulla, Grigen. Andiamo anche ad SM, che è a squisciare squiscia pure lui. Facciamo così, raga. Senza paura. Va bene. Oh, caffa. Spezziamo un paio di carta. Beh, se le genera le Blaster. No. Let's go, let's go. Mettiamo qualche buff al team. Ok. Questa fa male se c'ha la SM. Non ce l'aveva bene. Vai, Grigen. è parpole, raga. Quanto sei parpole, Gogeta. Va bene. Facciamo switchare questo parpole. Cresciato. Ok, Gogeta. Ok, Gogeta. Buttiamo dentro il nostro Grigen Purple. No, la mia verde, la volevo. Un po' troppo prolungato quel tappo. Distruggiamo Gogeta, raga. Ok. Va benissimo. E riesce a farci fuori. Sì. Sì, sì. No, cioè. No. No, raga. GG. Prossimo. Ultimo match. Universe Rep. Più Gogetone Blu. Vamonos, raga. Vediamo di fargli fuori quel Gogeta Blu come prima cosa. Ok. Andiamo anche di blu. Va bene Gogeta. Calmo Gogeta. Direi che buttiamo subito l'altro Giren per tankeggiarlo. Niente switch su Roshi. Ah, eccolo. Eccolo lo switch su Roshi. No, 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 no. Ok. Faccio cacare, raga. Distruggiamo due. E mi rushi. Ok. Certo. Certamente, amico mio. Godo, amico mio. Meno togner count di rientro. Più HP. Stop, 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 bro. Va bene, butchiamo in Giren. Nasce ancora quella mafuba infame. Devo per il momento farmi loccar lui, altrimenti Gogeta... Problemi, problemi, raga. Problemoni, raga. Forte. Il mio rush, tra l'altro, boh, raga, boh, proprio. 9-5-9. No. Mai sia. È una situa disperata, raga. Non penso proprio che lo vinceremo, sto match. Ma dai, no, no. Bravo. Hai anche un po' rotto le balottas, frate. Il mio rush è finalmente, cari. Non ci credo. Fermi tutti, raga. Fermi tutti. Non ci provare, cari. Non ci provare. Non ci provare. Non ci provare, ma non ci provare. Non ci provare. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Cos'è successo in questo match? Scappa! 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 Parliamo del team. Double Jiren raga che dire fenomenali chiaramente non è un team da top team da top meta ma vi tirerà fuori il giga chad che è in voi Jiren verde super promosso come Zenkai assolutamente più lo gioco più mi piace Jiren purple raga ma assolutamente sorpreso in quest'ultimo match grande campione grande roccia Vados sempre il best support mai inventato pensato dalla Bandai serve un suo Zenkai perché comunque ok è il best però si sente che manca un sacco di roba nel suo kit Nel complesso il team mi ha divertito un sacco quindi raga se ne avete la possibilità provatelo perché non ve ne pentirete Io vi mando un bacione a tutti quanti a presto